Una cinquantina le donne che negli ultimi 12 mesi si sono rivolte all'Associazione Vittoria che gestisce un centro antiviolenza in Val di Magra e una casa rifugio per le donne vittime di violenza. La media di una donna a settimana, un dato in linea rispetto a quello dello scorso anno. I dati sono stati annunciati nel corso della presentazione dello spettacolo organizzato dal gruppo Terziario Donna Confcommercio promosso anche dall'Associazione Vittoria. I dati sono in linea rispetto a quelli avuti nell'anno scorso e anche nell'anno precedente e anche quest'anno ci poniamo su una richiesta di intervento a settimana quindi più o meno abbiamo in carico una cinquantina di donne all'anno. Sono quasi tutte donne che subiscono violenze da anni quindi non si può parlare di un aumento di casi ma di un aumento dell'emersione. L'Associazione sta anche facendo un lavoro importante proprio con i giovani. Di che cosa si tratta? Allora, come Associazione Vittoria assieme alla consulta giovanile del Comune di Sarziana abbiamo iniziato un lavoro diretto proprio ai giovani relativamente al consenso nel rapporto sessuale e alla colpevolizzazione della vittima di stupro. Abbiamo iniziato sottoponendo ai giovani, e lo stiamo ancora facendo, un questionario per capire la percezione su questi fenomeni per poi iniziare un lavoro sulle scuole per lavorare su questo argomento che stiamo vedendo anche dai primi risultati necessita di una particolare attenzione da parte di tutti. Grazie.